L'Egambiente accende nuovamente i riflettori sul Via Libera alle trivellazioni in territorio Ibleo. L'Associazione Ambientalista, infatti, dopo le concessioni rilasciate sul fiume Erminio, torna a suggerire all'amministrazione comunale una delibera consigliare di ricepimento del piano paesaggistico, che inserisca al PRG un articolo che riguarda movimenti di terra, scavi e riporti. Una variante, sostengono, che risulterebbe del tutto legittime, che consentirebbe di rendere molto difficile la vita alle compagnie petrolifere. Un suggerimento, concludono dall'Egambiente, che se si agisce per tempo, permetterà di fermare le nuove trivellazioni vicino al castello di Donna Fugata. Un atto dovuto, secondo gli ambientalisti, dopo che il Consiglio di Stato avrebbe demolito le giustificazioni di amministrazione comunale e sovrintendenza riguardo le concessioni edilizie. In primo luogo, con la sentenza dell'organo statale, cadrebbe ad esempio la definizione dei manufatti strumentali all'attività di ricerca di idrocarburi, come opere temporanee per attività di ricerca nel suolo. Il Consiglio di Stato mette in luce come i pozzi per la ricerca di idrocarburi nel sottosuolo implicano un'alternanza permanente del territorio. Infatti, il fine del pozzo, si legge nella sentenza dell'11 luglio, è quello di individuare i giacimenti sotterrani, dai quali attingere nell'ambito della successiva attività estrativa. E' pacifico dunque il carattere stabile e permanente nel tempo del bisogno cui il pozzo esplorativo risponde. Quindi i pareri e concessioni edilizie, sostiene lega ambiente, sono stati rilasciati su presupposti totalmente errati. La sentenza del Consiglio di Stato, spiegano inoltre gli ambientalisti, costituisce parte delle motivazioni contenute nel ricorso al TAR Catania presentato da lega ambiente Sicilia contro le trivellazioni nel territorio di Ragusa, che deve essere ancora discusso nel merito. Grazie a tutti.